Buonasera, per me è un onore perché io festeggio 20 anni di appartenenza in FIIP proprio oggi, quindi festeggiarlo in questa maniera penso sia la cosa più bella che ci possa essere, tutti insieme. Io vorrevo avvalorare un po' quello che ci siamo detti durante la giornata. Non ho dubbi che noi siamo la più grande associazione in assoluto in Italia, io non ho dubbi di questo. Sono entrato 20 anni fa con uno spirito e dopo 20 anni ho sempre questo spirito. Il valore di FIIP secondo me è innegabile e non ho dubbio che qui ci siano assolutamente i migliori dirigenti d'Italia, quindi complimenti assoluti a questa federazione e non ho dubbi che questa federazione è l'unica federazione che tutela veramente la categoria degli agenti immobiliari, slegata da ogni e qualsiasi condizionamento di qualsiasi tipo. Ma non basta perché ce lo siamo detti tutti che la nostra percezione è questa, ce la dicono i nostri partner la qualità del merito creditizio che abbiamo, i rapporti con le istituzioni, ma oltre a questo ce lo devono riconoscere anche i consumatori e i nostri clienti. Noi abbiamo nel nostro pacchetto dei progetti che sono eccezionali, abbiamo delle convenzioni uniche dentro il mondo FIIP, ma credo che un evento come questo non serva solamente per dire a noi stessi quello che abbiamo e quello che siamo. Il Vice Presidente Vicario ha parlato di dati, lo ripeto, per me questa è la federazione più grande, ma se ci troviamo davanti a dati dove in qualche modo perdiamo associati, abbiamo un ricambio di mille associati circa all'anno, bisogna comunque tenere considerazioni per crescere e migliorare tutto ciò che abbiamo dentro di noi. Bisogna capire cosa c'è di buono, ma questi due giorni servono anche per capire cosa si può migliorare. In una squadra sportiva, in un team si può arrivare primi, si può stare a metà classifica e si può arrivare ultimi. Io penso che se siamo qua noi siamo tutti qua per migliorare e per dare un valore raggiunto ai nostri associati ogni giorno. Qual è il nostro core business? Il nostro core business è sicuramente uno e sono quei signori che sono lassù, che nessuno ha ringraziato fino ad ora e il nostro core business sono le persone per le quali noi lavoriamo e sono i nostri associati, ma non solo i nostri associati. Noi abbiamo tutti i dirigenti qui presenti che rappresentano i collegi regionali e i collegi provinciali, che sono il volano, il motore di questa federazione, sono le persone che stanno giornalmente a contatto con gli associati. E spesso noi, questi dirigenti, non è che poi li ringraziamo, li facciamo applausi o gli diamo quello che magari si merita nella vita di tutti i giorni. Cosa facciamo spesso? Non gli diciamo grazie, ma togliamo anche addirittura delle risorse sul territorio, spalmandole, mettendo a volte anche in difficoltà i collegi più piccoli. Quindi il mio appello è quello di una vicinanza maggiore al territorio, più risorse al territorio, più vicinanza a collegi più piccoli che non hanno la capacità di svolgere le attività, magari anche con interventi da parte del nazionale, dove certi collegi non hanno le risorse necessarie per far fronte ai requisiti minimi indispensabili che ogni collegio deve avere. Le battaglie politiche vanno fatte. Quindi la Presidenza nazionale e tutti noi bisogna andare avanti in questa lotta impari, però non possiamo mollare, bisogna andare avanti. Ma non bisogna diventare dirigenti di noi stessi. Noi bisogna ascoltare i nostri associati, bisogna ascoltarli per tanti motivi, per le loro necessità. Vogliono due cose loro e gli associati in questo periodo e ci mettiamo anche noi stessi. Vogliono lavoro e vogliono valore aggiunto dalla federazione. Una federazione di cui non possiamo assolutamente fare a meno. La base spesso ci accusa, e questo io non lo sopporto, che siamo lontani dal concetto di condivisione e siamo lontani dai bisogni della categoria. Questo non è vero. Quindi cambiamo il modo di comunicazione, stiamo più vicini agli associati, perché non è assolutamente vero. Il lavoro che svolge questa federazione e questi dirigenti è indegabile. siamo l'unica associazione, quindi lo ripeto, a tutela degli interessi degli agenti immobiliari. E un'altra cosa. Qualcuno, mi sembra della giornata di ieri, ha parlato di spazi. Noi abbiamo due problemi. Ci siamo resi conto da queste due giornate, secondo me, che siamo soli e che siamo anche aggrediti, aggrediti da tutti i competitor che sono intorno a noi. Quindi cerchiamo di fare anche un mio colpa, dare servizi di alto valore per gli associati, quali la formazione, l'informatica. Riempiamo questi spazi vuoti. Facciamo in modo che anche i nostri associati risparmiano. Io non credo che a tutti noi fa piacere andare a pagare i portali se riusciamo a risolvere i problemi e a vendere gli immobili con quello che ci offre FIAIP. Io vi ringrazio e viva la FIAIP!